Ben trovati a Tu per Tu, consueto faccia a faccia con i consiglieri provinciali e in questa puntata diamo il bentornato a Filippo De Gasperi, benvenuto nei nostri studi, ricordiamo in consiglio provinciale per il Movimento 5 Stelle De Gasperi, domanda piuttosto scontata per chi fa il nostro mestiere, il caso Itas, fino a che punto secondo lei quanto sta emergendo in qualche maniera potrebbe dare uno scossone anche al sistema trentino, qualcuno ha già lanciato diversi messaggi in tal senso, le opposizioni Forza Italia, Lega si sono già fatte sentire chiedendo anche l'UMI proprio in aula, lei che cosa ne pensa? Io penso che sia un po' il sintomo di un trentino che in una certa misura ha perso la bussola, abbiamo avuto nel corso di questa legislatura diversi esempi di questa patologia, ricordo la questione dei vitalizi in cui 130 persone sono divise a 96 milioni di euro, ricordo la vicenda recente della corruzione elettorale, la vicenda dei Trento Rise, io penso che il trentino in cui i valori fondanti della società erano una certa frugalità, una certa sobrietà, l'impegno nel lavoro, la fatica sta lasciando il passo a un trentino che si basa su altri modelli, sentiamo parlare di gioielli, di abiti griffati, di boli, di donne che dal punto di vista mio pensavo appartenessero a modelli diversi rispetto a quello del nostro trentino, quindi da questo punto di vista c'è la presa d'atto appunto che secondo il mio punto di vista stiamo perdendo la direzione del trentino che in un certo senso ci avevano consegnato le generazioni precedenti e il caso Itas insieme agli altri che ho citato è una sorta di cartina di tornasole, lì è chiaro che personaggi che cercano di utilizzare risorse altrui per fini propri sono sempre esistiti, il problema di fondo adesso diventa chiarire come mai i vertici e gli organi di controllo abbiano lasciato correre, se naturalmente le cronache dei giornali, dei quotidiani e anche della televisione riportano i fatti per come sono effettivamente andati, rimane da capire come mai i vertici e gli organi di controllo non si siano mai mossi perché tutto pare che avvenisse la luce del sole nel senso che le spese erano fatturate, intestate alla società e quindi evidentemente tracciabili e controllabili da chiunque, quindi il vero dubbio è quello da chiarire, è quello per cui nessuno abbia fatto nulla fino all'intervento della procura e questo va chiarito al più presto nei confronti dei cittadini, dei soci, dei clienti e anche della collettività trentina perché l'editas era la più antica mutua assicuratrice d'Italia, ha due secoli di vita e essere ridotta a terra di conquista da parte di qualche predone non era sicuramente la mission che ci si attendeva, quindi la chiarezza va fatta da questo punto di vista, se chiarezza non venisse fatta direi che chiedere le dimissioni, ma chiaramente non devo farlo io, lo devono fare i soci evidentemente chiedere le dimissioni del Consiglio di Amministrazione e chiedere conto agli organi di controllo mi sembra il minimo. Senta De Gasperi, per passare ad altro tema, spinoso anche questo, recentemente lei ha chiesto anche l'UMI sul nuovo reparto nascita di Rovereto con degli interventi che a voi non vi convincono. Sì, è una vicenda anche questa singolare, nel senso che prima di chiudere i punti nascita nei territori, a Arco Tione, si sarebbe dovuto potenziare i punti nascita esistenti. Il potenziamento è arrivato con un certo ritardo, parliamo di Rovereto in particolare, dove i lavori avrebbero dovuto terminare entro la fine del 2015, siamo arrivati abbondantemente in ritardo perché l'inaugurazione è avvenuta qualche settimana fa e quello che ci ha stupito è l'incremento dei costi che sembrano sia quasi raddoppiati, abbiamo chiesto le ragioni, ma le risposte non sono arrivate, si è parlato semplicemente di, abbiamo chiesto anche le ragioni dei ritardi, quindi ragioni del ritardo e ragioni dell'incremento dei costi. Le spiegazioni sono state piuttosto banali, variazioni organizzative e tecniche, quello potevamo darle per scontate, ci attendevamo, anche qui maggiore chiarezza e quindi saremo costretti naturalmente a denunciare la latitanza dell'assessore dell'azienda sanitaria che evita di rispondere in maniera puntuale alle domande. Continueremo il nostro lavoro di approfondimento per far capire ai Trentini che la sanità dal nostro punto di vista versa in uno stato confusionario. La doppia preferenza di genere De Gasperi, prima della sua risposta però vorrei farle sentire lo sprono che arriva da una ex di lusso anche della politica trentina, se vogliamo, sentiamo. Non capisco perché su questo ci sia questa impasse che oramai dà troppo tempo dura, io credo che siccome siamo una provincia tra le più civili finalmente dovrebbe passare e datevi una mossa, fatela passare. Datevi una mossa, dice. Ma noi, almeno per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, ci siamo mossi assolutamente, infatti abbiamo depositato un congruo numero di emendamenti per fermare questo disegno di legge, siamo intervenuti in maniera costante in Consiglio Provinciale non solo per rallentare i lavori ma soprattutto per spiegarle ragioni del nostro no a questa proposta. In democrazia penso che anche le minoranze quando sono compatte, quando sono coese, devono avere la possibilità di dire a loro, le minoranze non è che fungono da tappezzeria all'interno del Consiglio Provinciale. Quindi se esiste un... In questo caso lo sprono era per approvarla, quindi voi dite invece no. Invece ci siamo mossi per non approvarla. Le ragioni sono direi banali, questo disegno di legge non interviene sulla possibilità delle donne di partecipare alla vita politica. Questo disegno di legge agevola solamente la minoranza di donne che già oggi partecipa alla vita politica. Nessuno si chiede come mai quando le liste, quando i partiti, quando i movimenti devono trovare giustamente le donne per farle partecipare alle competizioni elettorali, le donne non ci sono. Non è sicuramente questo disegno di legge che aumenterà la partecipazione delle donne. Questo disegno di legge, se venisse approvato, aumenterebbe solamente la possibilità, la probabilità di un ristretto numero di donne, quelle che già oggi possono partecipare, già oggi partecipano nei fatti, di essere elette in Consiglio Provinciale, che è un concetto dal nostro punto di vista, discriminatorio nei confronti di tutte le donne e discriminatorio anche nei confronti degli uomini che si troverebbero con poche donne che raccoglierebbero naturalmente un gran numero di voti. E quindi è una doppia discriminazione e noi cerchiamo di contrastarla con gli strumenti democratici. Non è vero che il Trentino è l'ultimo, ci sono solo sei o sette regioni in Italia che hanno approvato, su Enti, che hanno approvato un disegno di legge simile a quello che viene proposto nel nostro Consiglio. Si parla tanto delle donne che mancano all'interno dei comuni e lì la colpa non è certo della legge elettorale ma è dei partiti, perché se non ci sono donne sindaco è perché i partiti non le hanno candidate, se non ci sono donne assessore è perché i sindaci non hanno nominato le donne, ricordiamo il caso caffiano direi imbarazzante della giunta comunale di Trento che è l'ultima in termini di presenza femminile a livello nazionale e l'ipocrisia sta nel Consiglio comunale di Trento che approva una mozione a sostegno della legge per la doppia preferenza quando nella loro giunta la presenza delle donne è ridotta al lumicino. Anzi anche poi con il rimpasto si è ridotta ulteriormente. Stessa vicenda anche in Consiglio provinciale con la storia dell'ex assessora Borgonovole, defenestrata direi a questo punto dal suo stesso partito perché appunto è stata sostituita da un uomo del PD senza che nessuno avesse nulla da dire. Quindi il nostro lavoro è quello di denunciare le discriminazioni e anche l'ipocrisia, le discriminazioni che stanno all'interno di questo designio di legge e l'ipocrisia di chi porta avanti questa proposta ma nei fatti poi la democrazia paritaria non ha nessuna intenzione di praticarla. Il tempo a nostra disposizione è scaduto, pochi minuti come sempre non sono mai abbastanza per sviscerare tutto però ci si rivedrà sicuramente anche con Filippo De Gaspari del Movimento 5 Stelle. Grazie per essere stato con noi intanto e ovviamente appuntamento alla prossima puntata. Grazie per la visione!